Ieri a Borgo Nuovo di Piuro una violenta tromba d'aria ha causato notevoli danni e paura. Per miracolo non ci sono state vittime. La tempesta colpita all'improvviso dopo alcune avvisaglie dovute a un forte vento caldo che aveva sradicato alberi a Crana verso mezzogiorno. Nessuno poteva prevedere la sua intensità. La tromba d'aria si è formata alle 14.30 e ha devastato tutto ciò che incontrava danneggiando gravemente tetti in pietra e tegole. Lastre sono state sollevate in aria per metri prima di cadere a terra. Per fortuna le strade erano deserte al momento dell'evento evitando potenziali vittime. Nessun danno alle auto parcheggiate mentre decine sono i tetti seriamente danneggiati insieme ad alberi abbattuti, vasi di fiori trascinati, segnali stradali distrutti, vetri rotti ante delle finestre divelte e danni alle abitazioni, compresi camini e coperture. Durante la tromba d'aria parti di edifici sono state scaraventate per aria per centinaia di metri, una di esse ha colpito persino un'auto in transito.